È chiaro che a livello psicologico è dover giocare sapendo che è il risultato indispensabile. La vittoria ti dà ovviamente la consapevolezza, magari lo speri, che ti dia una carica per poterla centrare, però nello stesso tempo ti dà quell'ansia che è classica. Adesso speriamo che Padre Eterno ci assista, almeno sotto questa possibilità di poter scegliere tra i giocatori più in condizione. Mi auguro che ci sia una squadra che proporrà i valori che ha dentro, la nostra. La sensazione è che qualcuno bleffa lì davanti, che è seduto a un tavolo ospite, ma non necessariamente in grado di sopportare certi obiettivi. Ci sono altri che sono in ritardo e che invece magari si siederanno a quel tavolo, come sempre è successo. Diciamo che è un campionato allucinante sotto certi punti di vista perché nel caso, visto che è un risultato che ci può stare, che il Trapani vinca domani, si avvicinerebbe tanto alla salvezza, ma non si allontanerebbe neanche tantissimo nei play-off.